benvenuti di nuovo alla puntata lezioni di stile oggi vi presentiamo la proposta per il cocktail per noi la moda saffa che ci presenta la nostra proposta tendenze 2019 2020 autunno inverno qui ce l'abbiamo un mini abito color grigio topo molto brillantato non potevano mancare gli accessori tacco alto e i cerchetti per i capelli giustamente il sorriso bellissimo di saffa le unghie rosse e a breve saremo pronti anche con il trucco state con noi